Allora, va bene, buonasera, è un pubblico foltissimo, io sono Federico Delprete e sono qui per presentare il mio secondo libro sulla bicicletta, che in realtà è un libro un po' imprevisto, nel senso che il secondo vero scritto tutto da solo lo consegno tra poco e quindi questo si è infilato surrettiziamente in questa linea che però dichiaro conclusa, cioè non conclusa nel senso che non scriverò più libri, ma sicuramente credo di aver esaurito almeno insomma con questo e con quello che verrà tutto quello che avevo da dire sulla bicicletta, il primo era un libro che raccontava la mia personale conversione dai mezzi a motore alla bicicletta, da Roma a Milano e il secondo racconterà 10 bici, si chiamerà, titolo provvisorio ma direi abbastanza sicuramente quasi definitivo, racconterà tutte le biciclette esistenti, da dove vengono, dove sono e dove vanno, perché noi abbiamo bisogno, tutti dicono eh ma in Italia non c'è la cultura della bicicletta, eh ho capito, negli altri paesi la cultura l'hanno fatta, ammazzate anche spesso e quindi ci toccherà in qualche modo farla anche a noi sta cultura, quello che possono fare i giornalisti, gli scrittori, gli uomini in qualche modo di comunicazione è quella di contribuire per quello che possono a farla e questo secondo o terzo libro, adesso non so, invece che è più bici più piaci, racconta una storia strana non di biciclette ma di ciclisti, cioè vorrebbe essere un bestiario, sapete cos'è un bestiario? Il bestiario sono quegli atlanti medievali che raccoglievano gli animali molto spesso immaginari che si sarebbero trovati eh nei posti conosciuti o anche in quelli sconosciuti, era ovviamente molto più facile descrivere quelli nei posti sconosciuti perché essendo sconosciuti uno poteva dire quello che voleva e questo libro è stato scritto con Paolo Pinzuti che è un attivista importante a livello nazionale ed internazionale del quale porto comunque i miei saluti, mi ha chiamato adesso perché lui è a Smirne in Turchia, cioè lui effettivamente vive a Smirne e da lì però è stato in grado nel corso del 2012 di accendere la miccia del più grande movimento europeo di sensibilizzazione sui temi della mobilità sostenibile, in particolare di quella ciclistica che è Salva i ciclisti. Che cosa era successo? Era successo che, ne parlo anche nella mia introduzione a questo libro, che una reporter del Times di Londra, uno dei più grandi quotidiani del mondo, andando a lavoro in bicicletta come del resto faceva tutte le mattine, è stata messa sotto da un camion e mentre parlo è ancora in riabilitazione, se l'è cavata per fortuna. La differenza con tutte le altre persone che subiscono incidenti in bicicletta è che la sua redazione, una redazione evidentemente di ciclisti, decise di fare una campagna planetaria sensibilizzando tutte le altre testate del mondo per cercare di portare consapevolezza e decisioni da parte del governo a favore di una mobilità ciclistica se non altro più diffusa. In Italia questo movimento che si è creato con l'adesione dei più importanti quotidiani italiani ha prodotto qualcosa di davvero straordinario che è appunto il movimento Salva i ciclisti che ancora oggi esiste ed ha incassato l'interesse del Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano e una lettera dell'allora Presidente del Consiglio dei Ministri Monti sui temi appunto a sostegno dei temi che il movimento propugnava. Il perché? Perché abbiamo pensato di scrivere questo libro? Allora, questo libro nasce in realtà da un progetto, il primo progetto italiano di incentivo all'uso della bicicletta sui percorsi casa lavoro. Che cosa vuol dire? Vuol dire che se noi continuiamo a incentivare il traffico ciclistico ma parallelamente non disincentiviamo l'uso dell'automobile privata non andiamo da nessuna parte perché anzitutto c'è un tetto di saturazione. Se l'Italia è il paese con più automobili private al mondo, è evidente che se tu non fai qualcosa per ridurre questo grosso problema tra i tanti che abbiamo oggi, le biciclette non andranno oltre una certa soglia percentuale di traffico sul totale degli spostamenti. E quindi in questo senso incidere sul, diciamo, il traffico preponderante che è quello delle persone che tutti i giorni hanno un flusso regolare andando al lavoro e poi tornando a casa, non riesci a abbassare la soglia del traffico automobilistico. Quindi abbiamo deciso all'interno di questo progetto anche di fare un'iniziativa, diverse iniziative, ma in particolare questa del libro, di comunicazione, spiegando che cosa vuol dire diventare ciclisti, diventare ciclisti quotidiani. Perché a noi piace tantissimo la bicicletta, lo diciamo tutti, vogliamo anche noi godere di questa immagine progressista, green, cool, trendy, glamour, no? Tutte queste parole che abbiamo imparato come gergo anglosassone. Però poi quando si tratta di andarci tutti i giorni al lavoro e usarla quindi come mezzo di trasporto individuale, non si va da nessuna parte. E allora abbiamo scelto la strada ludica, piacevole, divertente, perché è la contrapposizione che non funziona, no? Andare e mettersi contro il modello di mobilità vecchia per promuovere quella nuova non funziona. Bisogna prenderlo in giro il modello di mobilità vecchia, cercando di essere spiritosi, cercando di essere inclusivi, cercando di far capire che se noi leghiamo la qualità delle nostre relazioni, perché la mobilità è questo, no? Tutti parliamo di mobilità, 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 la mobilità sostenibile, mobilità dolce, mobilità nuova, ma che cos'è sta mobilità? La mobilità è la qualità delle nostre relazioni. Se io devo portare mia madre dal medico e mi stresso un'ora nel traffico perché c'è qualcuno che ha scelto esattamente come me di usare un mezzo che occupa 8 metri quadrati anziché uno, è evidente che poi arrivo stressato e non qualifico quella relazione. Se devo andare a vendere qualcosa a qualcuno, il commercio, la produttività, l'industria e lo faccio con una modalità anche lì malata, stressante, non si va da nessuna parte. Se invece uso l'automobile solo per portare mia madre dal medico, che magari non riesce a camminare, è anziana, eccetera, ma nel resto di tutti i miei movimenti quotidiani e settimanali provo ad usare la bicicletta, allora le cose vanno decisamente meglio per tutti, perché la bicicletta è un giocattolo, allo stesso tempo un mezzo di trasporto che ha infinite qualità e veramente non si riuscirebbe ad elencarle tutte anche stasera, perché è tra le poche cose che non fanno bene solo a noi in termini di salute, in termini di benessere, in termini di buon umore, ma fanno bene anche al prossimo, come si dice. Perché? Perché se io occupo meno spazio, se io faccio meno rumore, se io risparmio denaro, se io sto meglio e sono più contento, faccio del bene anche agli altri, perché quello spazio lo lascio ad altre cose, ad altre attività. Il mio risparmio lo rimetto in circolo nell'economia della nazione e comunque il mio buon umore qualifica le mie relazioni e così via, ma al di là di queste cose che sono un po' immateriali, intangibili e ne basti, una, la bicicletta impiega cinque volte meno energia che camminare e sessanta volte meno energia che spostarci in automobile. E questi sono dati scientifici che usano tra l'altro anche i divulgatori famosi nel nostro paese come Piero Angela, che in tempi non sospetti, cioè prima del movimento salviciclisti appunto fatto partire da Paolo Pinsuti, ha fatto un bellissimo servizio su Superquark, che vi prego di andare a vedere in YouTube, nel quale dice poche cose in dieci minuti, ma non solo esatte e nel suo stile divulgativo che tutti conosciamo, ma anche utili e sorprendenti, perché noi non ci facciamo mai caso, noi pensiamo che muovere il nostro corpo, che insomma di media pesa una settantina di chili, quindi usando un affare che ne pesa mille, sia una cosa normale. Quando invece uno usa un veicolo che ne pesa, non so, massimo 15 per spostare sempre quei settanta chili lì, lo pigliano tutti per matto e questa è una cosa abbastanza bizzarra. Comunque io mi sono occupato di fare il lavoro sporco su questo libro, la mia parte è quella diciamo un po' barbosa di dire appunto queste cose di cui vi sto parlando adesso, però cercando appunto come comunicatore, come attivista di mettere un po' dei punti fermi. Mentre Paolo, con il quale condivido sicuramente una grande diciamo propensione al cazzeggio, per usare una parola italiana, l'ha vista in modo appunto molto divertente, disincantato e spiritoso. Che cosa ha fatto? Si è ricordato che un naturalista olandese che si chiamava Carlo Linneo, alla fine del Settecento aveva organizzato tutto il mondo biologico degli animali e delle piante, utilizzando dei nomi inequivocabili, secondo un codice, aveva assegnato a ciascuna creatura, animale o vegetale che fosse, un nome che lo, come noi insomma abbiamo i nostri documenti che hanno scritto sopra il nostro nome e il nostro cognome, lui attribuì a quasi, poi gli altri naturalisti dopo di lui continuarono l'opera, a quasi tutti gli esseri viventi un nome e un cognome. E allora, se noi ci chiamiamo quindi per questo Homo Sapiens, ci hanno tolto il secondo Sapiens, non so se lo sapevate, non siamo più Homo Sapiens Sapiens, perché qualcuno ha pensato che se usiamo così tanto l'automobile tutti i giorni, forse troppo Sapiens non saremmo. Ecco, anzi c'è chi dice, ma no, forse bisognerebbe dire Homo Insipiens piuttosto che Homo Sapiens, perché ormai è conclamato che il buonsenso è andato a farsi friggere. Allora, Paolo ha pensato, perché non fare una nuova classe, una nuova famiglia di esseri viventi? I birota. I birota sono coloro che usano la bicicletta e ormai, visto che in Italia comunque vadano le cose, no? Comunque il nostro governo, quello che dovrebbe fare la famosa cultura della bicicletta, stia affrontando il problema della mobilità, comunque noi vediamo popolare le nostre strade di dei birota sempre diversi. E quindi lui ha fatto questa piccola, diciamo, colpo di lui che è un diplomato in scienze internazionali, una piccola incursione nel mondo delle scienze biologiche. E quindi, non so, noi troviamo il birota fixa, il birota corsaiolus, il birota transportans, il birota silvestris addirittura, che è una specie che si incontra solo fuori città, il birota electricus, che come quegli animali che al contatto ci danno la scossa, hanno qualcosa a che fare con l'elettricità, il birota radicalis e così via, c'è addirittura il birota mater, se uno magari avesse dei figli e fosse di genere femminile, è un genere unicamente femminile quello del birota mater, perché appunto popola la sua bicicletta e le sue giornate di bambini che vanno in qualche modo trasportati. E li vogliamo trasportare in automobili, questi bambini? No. È una delle cose più terribili che si possano fare ad un bambino. Come sapete i bambini hanno in questo periodo l'infanzia in generale, ce lo dice l'Organizzazione Mondiale della Sanità, dei problemi giganteschi. Anche in Italia, dove mangiamo bene rispetto al resto del mondo, perché abbiamo le qualità della dieta metiretranea, i bambini sono sovrappeso, intanto. Secondo poi, non hanno autonomia, hanno perso completamente la loro autonomia. È stato fatto uno studio molto interessante di cui ho parlato nel mio libro precedente, in cui si misurava cronologicamente lo spazio di autonomia, proprio fisicamente, che i bambini hanno nelle differenti epoche. Bene, il nostro praticamente è uguale a zero. Ormai i bambini sono portati come dei pacchi ovunque, in palestra, in piscina, a scuola, perché noi siamo spaventati, siamo dominati da paure spesso incontrollabili e quindi ci assicuriamo che i nostri bambini siano sempre ben protetti. Ma che tipo di protezione è quella di non farli muovere e di non renderli indipendenti? Nessuna. Viceversa, la bicicletta è un veicolo che dà autonomia, indipendenza e autostima soprattutto ai bambini, li rende più forti. E di questo naturalmente si occupa una delle nostre figure qui biologiche, che è il birota infans, cioè quello che in qualche modo si serve e si lascia coinvolgere da un fenomeno, per fortuna, sempre crescente, cioè quello di recuperare ai bambini la loro mobilità restituendogli la bicicletta. Il momento in cui noi abbiamo fatto le prime pedalate senza rotelle, lanciate dai nostri genitori, non si dimenticano mai più. Sono uno dei ricordi più belli che uno possa avere. Poi improvvisamente queste cose vengono lasciate nel territorio dell'infanzia e invece no, dobbiamo cercare di tenere questa fetta di infanzia divertente, gioiosa, edificante, salutare per tutta la vita, perché allunga la vita. E quindi in questo periodo si moltiplicano queste iniziative che tendono a restituire ai bambini l'uso della bicicletta nei loro percorsi quotidiani, ad esempio per quello casa-scuola. E quindi molte città italiane stanno sperimentando il bici bus, che è praticamente quella organizzazione, secondo la quale i genitori, gli insegnanti e i bambini stabiliscono, si fanno mobility manager di loro stessi, stabiliscono una linea secondo le abitazioni dei bambini e parte il primo genitore e fa le varie fermate su quel percorso, accompagnando con un gruppo sempre più folto e numeroso, i bambini fino alla scuola e il ritorno. E questa è una cosa straordinariamente intelligente da fare. Perché? Perché è contagioso. Non solo fa bene ai bambini, appunto, come dicevo, la bicicletta non fa bene solo a chi la usa, ma fa bene anche a tutti quelli che gli stanno intorno. Gli automobilisti fanno dei sorrisi che a confronto con le espressioni che di solito vediamo dentro i finestrini, al di là dei finestrini degli automobili, sono davvero, aprono il cuore, perché vedono passare tutti questi bambini con i loro caschetti, con i loro giubbini ad alta visibilità, tutti insieme e automaticamente smettono di essere arroganti, smettono di pensare che l'automobile privata sia l'unico veicolo che possa circolare in strada quando sappiamo che esiste una legge che si chiama codice della strada, che prevede che tutti i veicoli abbiano uguali diritti e certamente anche uguali doveri. E poi in questi, diciamo, birota, in questi animali immaginari, Paolo riesce a dare anche tutto ciò di cui abbiamo bisogno, noi abbiamo bisogno di essere educati, siamo diseducati all'uso della bicicletta e quindi pensiamo che sia una cosa insormontabile, no? Utilizzarla davvero come mezzo di trasporto individuale tutti i giorni, invece non è così. Siamo invece abituatissimi a sapere che cos'è, ad esempio, una maxirata finale, oppure l'ABS, o il climatizzatore, oppure un pacchetto di assistenza sulla rete convenzionata, o il servo sterzo. Sono tutte cose che noi conosciamo benissimo. Io altro giorno parlavo con una giovane donna di 20 anni, la quale era preparatissima su cosa fosse un motore turbodiesel a iniezione common rail. Io dicevo, scusa, ma tu non ho capito, quando ti si rompe la macchina, poi cosa fai? Apri il common rail e te lo ripari da sola? No, sei nella spirale, nelle grinfie di una rete di assistenza, quando ti si accende la spia del FAP, del filtro antiparticolato. Quando tu potresti con due chiavi inglesi ripararti una bicicletta che ti porterebbe dappertutto, senza sforzo e divertendoti, mi parli del diesel common rail, ma c'è qualcosa che non va. Sicuramente c'è qualcosa che non va. E allora, non so, c'è il birota antifurtus, quello che ci spiega come non farsi rubare la bicicletta, perché, per quello che ne posso capire io, che ormai ci sono dentro fino al collo in questa storia, sono diventato un bicitariano, cioè la versione ciclistica di chi sceglie di mangiare una certa cosa invece che un'altra, no? E quindi io sono un bicitariano perché non uso più i veicoli a motore. Da quando non uso più i veicoli a motore? Ovviamente mi si è aperto un mondo, tant'è vero che ho deciso addirittura di scriverci dei libri. Ho giurato che questo terzo che uscirà sarà l'ultimo di biciclette, però insomma comunque come vedete ci casco sempre. E una delle cose che ho imparato è che i furti di biciclette, ad esempio a Milano ne rubano 30 al giorno. E lo sappiamo non perché come le automobili i furti di biciclette si denunciano, perché le persone non pensano che la bicicletta sia un bene che valga la pena denunciare, no? Del quale valga la pena denunciare il furto. Perché naturalmente è così grande la ricettazione, no? Che noi alimentiamo, perché dice no, io non ci spendo 700 euro per una bicicletta, ma siamo impazziti. Per un telefonino sì, ma per una bicicletta no. E uno dice Gesù, ma col telefonino tu non ci puoi andare al cinema, oppure a fare una bella passeggiata, col telefonino ti stressi? Il mio è un telefono da 99,99 e ci faccio tutto quello che si può fare con uno da 700. Ma perché ci dovrei spendere 700? Non ho capito, c'è il GPS, le mail, navigo in internet, ho tutto quello che mi serve, l'ho pagato 99,99. Perché devo spendere 700 euro a 700 euro, mi ci compro una bella bicicletta con tutti gli accessori e gli antifurti. Perché se io pretendo che non me la rubino, non solo non sapendola legare, ma poi legandola con un antifurto da 30 euro, sono scemo. Perché un antifurto da 30 euro dura 5 secondi. Io ormai li misuro euro per secondo gli antifurti, no? Per esempio, io lì dentro ho un antifurto da 70 euro. Che è un antifurto sbagliato, però perché è un antifurto molto leggero. Leggero come peso, no? Leggero come consistenza. Però a me serve perché quella lì raramente la leghi fuori, te la porti dietro. E quindi ho bisogno solo veramente per quei 40 secondi che entro e esco da un posto, no? E non ho voglia di piegarmela, comunque la piego e me la porto. E allora quell'antifurto lì che costa 70 euro ci vogliono 45-50 secondi. Ok? L'altro con cui leggo l'altra bicicletta, che costa sempre quella cifra lì, ci vogliono invece un minuto e mezzo perché sono 9 mm di acciaio temperato. Allora il ladro non gliene frega niente, diciamo, di che bicicletta sta rubando perché tanto lui la rivenderà sempre alla stessa cifra. Su questo possiamo essere certi. Ci sono ampia letteratura, ne ho parlato anche appunto nell'altro libro, una vicenda che è successa a Milano che è stata ampiamente rimbalzata dai media in cui una persona si è fatta rubare una bicicletta da 800 euro e poi l'ha ritrovata. Quando in una delle conferenze stampa che ha fatto in giro per sostenere poi una campagna contro il furto del tutto personale gli ho chiesto, ma scusa con che l'avevi legata? Ma sai che non me lo ricordo? Faccio sì, ok, non te lo ricordi, però te l'avranno tagliato? Sì, sì, l'hanno tagliato. Ma che cos'era? Sai, uno di quei cavi così d'acciaio. Ah, ok, io ho detto, beh, allora sai, era come se facevi meglio a scriverci un bel cartello rubami sopra, no? E poi abbiamo scoperto che la bicicletta era stata rivenduta a 60 euro. Quindi il ladro vuole rubarla velocemente. Meno tempo ci mette e meglio è. Apre qualsiasi cosa. Non c'è antifurto che tenga. Però è chiaro che se tu la parcheggi in un posto con determinate caratteristiche e la leghi con uno o più antifurti di determinate caratteristiche, quello va da quello lì che ci mette 5 secondi e non dal tuo che ci mette un minuto e mezzo. È una legge assolutamente inderogabile, insomma. Quindi birota antifurtus è servito a Paolo per raccontare questa cosa. Birota Transportanz. Dove vai? Eh sai, devo andare a fare la spesa. Arca miseria, ti tocca prendere la macchina, eh? Eh sì, sai, perché sono disabile. Non ce la faccio a portare le buste. Eh, in bicicletta non posso andare perché dove le metto le buste della spesa? Allora, quella borsa lì sono 31 litri di capienza, ok? È la borsa che quel modello di bicicletta che io non uso tutti i giorni, ma che uso adesso vengo da Biella in questo momento e uso naturalmente come 24 ore, ma con 31 litri tu ci fai la spesa per una settimana. Io ho due figli, una famiglia, la spesa l'80% delle volte la faccio con quella cosa lì. Ci sono le cargo bike. Perché uno dovrebbe avere un'automobile che costa 7500 euro, diciamo, sparo una cifra a caso, che ne costa 4-5 mila l'anno solo di gestione, più tutta la benzina che ci metti e poi non vuol spendere per quattro biciclette che gli coprono tutto il range di utilizzo di cui ha bisogno una famiglia. Perché non dovrebbe essere così? Allora, si va a fare la spesa in bicicletta. Su questo non direi che non c'è deroga, ma purtroppo è molto difficile se non ci si è caduti dentro da piccoli come Obelix nella pozione magica, no? Sapete che Obelix la pozione magica non la prende mai. Perché? Perché ci è caduto dentro da piccolo. e allora o qualcuno te la inocula questa pozione e tu dici wow, ma cosa succede? Io pensavo di vivere in una città, ma questa non è una città. È un parcheggio. Ci sono oltre 600 automobili per mille abitanti. Questa è la media italiana. Come diavolo la posso usare la mia città se è un parcheggio, se è ingombra costantemente di automobili, no? In altri paesi questo rapporto è decisamente più controllato, no? Gli Stati Uniti sono il paese che ha più tasso di motorizzazione al mondo, di veicoli a motore, ma nel loro complesso. Noi, e quindi diciamo le auto private, sono 300-320 ogni mille abitanti. Noi invece siamo, mi pare, terzi nella classifica della motorizzazione generica, ma primi comunque in quella delle auto private pro capite con oltre 600. In una situazione di questo tipo, ma come diavolo pensiamo di qualificare i centri storici delle nostre città d'arte? Boh, sono andato, sono stato invitato a un, provocatoriamente, a un convegno di fautori dell'automobile, perché nonostante l'Italia abbia un tasso di motorizzazione così elevato c'è anche bisogno di una lobby dell'automobile, per presentare il mio libro precedente. C'era un signore, che era il direttore del Museo Ferrari, che diceva, sentite qua, io ho una proposta per rivitalizzare il turismo nei nostri centri storici. Tutte quelle belle piazze dove ci sono questi monumenti, noi ci facciamo delle esposizioni permanenti di Ferrari, perché quelle comunque sono delle opere d'arte, no? E quindi praticamente a rotazione, ma non i modelli vecchi faceva, proprio quelli nuovi, facciamo così, le facciamo vedere così le persone guardano le nostre città d'arte e poi si fermano anche ad ammirare le Ferrari. E devo dire che pure se era il convegno dei fautori dell'automobile, c'era Vittorio Feltri ad esempio che diceva, io ho due SUV, uno per me e uno per mia moglie, se fosse per me, altro che nelle piazze, le Ferrari le metterei pure sul Duomo di Milano, questo era un po' il tono, per dirvi un po' com'è andata. Il pubblico comunque ha rumoreggiato, insomma, quindi c'è un limite a tutto, però la tendenza è un po' quella. Nel frattempo, senza Ferrari, comunque i centri storici delle nostre città sono dei parcheggi, parliamoci chiaro. Quindi, in pratica, qualcosa, questo successo, speriamo non effimero degli ultimi tre anni, perché poi è di questo che stiamo parlando, di una mobilità ciclistica veramente diffusa, spero, credo che possa servire almeno a questo. Almeno a questo, se non a limitare la spesa sanitaria gigantesca che noi abbiamo a causa delle automobili. Praticamente, per il fatto che in Italia ogni anno muoiono 4.500 persone in incidenti stradali e ne sono feriti, la cifra ufficiosa è 300.000, noi abbiamo una spesa sanitaria fuori controllo. La Lombardia è la regione che ha la più alta incidenza di tumori alle vie respiratorie. Perché? Perché purtroppo, da un punto di vista ambientale e paesaggistico, è una specie di bidet, e quindi in questo bidet, concentrandosi il 60% delle attività industriali italiane, è normale che il PM10 ristagni. E quindi questo, evidentemente, che è acclarato, ormai scientificamente si tratti di origine prevalentemente dei mezzi a motore, soprattutto di quelli diesel, come lo elimini? In qualche modo, insomma, bisognerà fare. Quindi questo libricino, più bici più piaci, in realtà è un piccolo tassello, in un mosaico molto più grande. Però il mosaico c'è, il disegno c'è, è tracciato, non l'abbiamo tracciato noi. Non so chi l'abbia tracciato, perché a che cosa si deve l'incremento del traffico ciclistico in Italia? Perché c'è, è sensibile, le statistiche ce lo provano in maniera molto chiara. Ha la crisi? Ma sì, certo, la crisi ha una sua incidenza, ma ha una sua incidenza però sulle classi medio-alte, perché i poveri in bici ci sono sempre andati e sempre ci andranno. C'è, per esempio, una cosa che vorrei studiare e su quale vorrei fare una ricerca, se no addirittura un libro ho promesso di non farne più, è la mobilità degli immigrati. Gli immigrati usano tantissimo la bicicletta ed è appunto la prova che si può fare. Poi i ricchi invece la usano, se la usano come status symbol, eventualmente, stanno cominciando un po' a capire che è una cosa sulla quale far leva anche per un posizionamento di tipo socio-economico, ma la classe media non ce la sta facendo e quindi tutti quelli che non avevano problemi fino a poco tempo fa a gestire due automobili o addirittura di più, pur essendo appunto non avendo un reddito troppo alto, adesso improvvisamente ci pensano. Quindi sono persone comunque di una certa formazione, evolute, che pensano ma chi me lo fa fare di mantenere tre automobili? Ne vendo una e comincio a fare un pezzo, un po' alla volta, dei miei trasferimenti con la bicicletta. E questa cosa è ormai conclamata. Dove è? Dove la troviamo la prova di questo? Nella pubblicità. Avete fatto caso come per vendere ormai qualsiasi cosa, ci sia sempre di mezzo una bicicletta? I negozi del centro, anche questo, ma è per un'occasione diciamo particolare, vendono abbigliamento? C'è dentro una bella bicicletta. Lo spot pubblicitario per vendere il telefonino? Passa una bicicletta. Quelli alimentari, non ne parliamo. Cosa mangio? Perché lo mangio? Vum, vedi lei che passa su una bella bicicletta con un bel vestito a fiori. Questo in termini di comunicazione si chiama megatrend. Cioè la bicicletta oggi è un megatrend in comunicazione, nel marketing, nella pubblicità. Eh ragazzi, parliamoci chiaro, se le aziende ci investono così tanti soldi, vuol dire che è vero, quindi al di là di tutti i birota con i quali vi potrete divertire in questo divertente libretto, io voglio concludere così, prima di lasciare magari la parola a voi se avete delle domande o delle così delle vostre osservazioni. Gandhi, che era una persona pacifica, ha detto una cosa secondo me bellissima, che io cerco di ricordarmi sempre, se vuoi il cambiamento, quindi chiediamoci prima di tutto se lo vogliamo sto cambiamento, oppure se vogliamo continuare a fare i parcheggiatori, devi essere il cambiamento. E quindi questo vuol dire pigliatevi una bella bicicletta e iniziate a capire come cambiare la vostra vita attraverso la scelta di una mobilità diversa.